era una calda notte d'estate la città sembrava un palcoscenico vuoto e silenzioso stupefacente ma che sono quei tipi non ci posso credere dove staranno andando e soprattutto cosa avrà in mente ai 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 ragazzi qui sento d'ore di guai con quelle tacce non prevedo nulla di buono e ora cosa succederà ora il gioco è sin troppo facile e a quei strani tipi sicuramente non andrà giù ma adesso che fanno lo sapevo qui ci vuole super joe joe rivetto the class is no water abbigliamento zori vetto nei migliori negozi